Aperta parentesi, G puntata, V puntata, chiusa parentesi. Giovanni Vielli il suo epitafio l'aveva stampato nella mente e nel cuore e così lo ricordiamo con il cuore, il nostro a pezzi e la mente arrovellata alla ricerca di un perché. Giovanni è morto la scorsa notte a 64 anni per un arresto cardiaco. Al suo fianco la moglie Donatella e la figlia Cecilia ed è a loro che vanno il nostro abbraccio e i nostri pensieri di affetto incondizionato. Voce e volto dello sport appassionato e colto amava il suo territorio che conosceva come nessuno. Ha dipinto con le sue parole mai fuori posto le imprese più alte raggiunte dai campioni dello sci di fondo, dell'atletica e del podismo. Era un'enciclopedia vivente e a dolore afferma la presidente di Confindustria Loren Berton non poterlo vedere raccontare le Olimpiadi del 2026, il coronamento di una vita vissuta sempre in prima linea con solidi valori e radici. A Confindustria era entrato all'inizio degli anni 80 e dai tre fondatori del consorzio Cipa che negli anni diventa punto di riferimento delle imprese per le questioni ambientali. Un'eccellenza bellunese a cui Giovanni affianca l'idea di un'agenda e di un calendario. Da un lato le scadenze tassative per le imprese associate, dall'altro un veicolo di promozione della storia dello sport bellunese che nel giro di pochi anni diventa oggetto di culto. Segretario di Federturismo Veneto dell'ANEF regionale Giovanni Viella ha ricevuto numerosi riconoscimenti dal fair play della Fisi e la stella al merito al lavoro che gli è stata conferita l'anno scorso in prefettura. Un minuto di raccoglimento questa mattina gli è stato dedicato a Villa Doglioni del Massa l'apertura del convegno sui grandi eventi e lo sviluppo a nord-est. Cordoglio dal mondo politico istituzionale e dello sport, con la Fisi Veneto in prima fila a ricordare un grande professionista che con generosità e umiltà ha preso per mano tanti di noi e ci ha condotti metaforicamente lontano. Mercoledì pomeriggio a Ponte nelle Alpi l'ultimo saluto, ma per noi resterà per sempre. aperta parentesi G puntata V puntata, chiusa parentesi. Un monito alla fuggevolezza della vita che Giovanni ci ha insegnato senza risparmiarsi, stando un passo indietro. Grazie Giovanni.